Francesco Cristini nasce questo comitato contro il forno crematorio, quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a formare questo comitato? Le motivazioni che ci hanno spinto come abitanti nella zona limitrofa del nuovo cimitero è quello che la realizzazione di questo grosso impianto di cremazione praticamente ci produce nell'aria una fonte inquinante non indifferente. Noi ci siamo costruiti una casa in campagna per stare un po' in grazia di Dio sinceramente e vederci realizzato vicino casa un impianto di cremazione di siffatte dimensioni ci preoccupa in maniera proprio eccessiva. A giorni invieremo una nota al sindaco come massima autorità sanitaria cittadina, al direttore generale della ASL RM4 e all'ARPA perché vi sono alcune cose che vanno messe in evidenza e ne possiamo citare qualcuna, un'anzi in autotutela che venga effettuata una monitorizzazione preventiva della qualità dell'aria e del suolo all'intorno del cimitero oggi in modo che nell'amaugurata ipotesi che questo crematorio venga realizzato ci può permettere anche in futuro di poter dire guardate che prima l'aria era in questa maniera adesso invece è in quest'altra. Poi un'altra cosa lo stesso che ci preoccupa del forno crematorio sono le emissioni ma questo non soltanto a noi, infatti la nostra associazione si sono anche aggregate tantissime altre persone di Civitavecchia che la vedono da un punto di vista globale, cioè il famoso mai più un cerino bisogna accendere ogni salma necessita dai 20 ai metri cubi, lo dice il progettista, di metano per essere cremata facciamo migliaia di, perché poi sta cifra non si sa quant'è perché due anni fa si parlava di una linea di cremazione più eventualmente un'altra poi siamo passati a due sicure, poi adesso eventualmente estendibili a quattro poi in alcune parti si parla di sei cremazioni al giorno, alcune parti di otto sempre nello stesso progetto e da altre parti anche estendibili anzi sa quante cioè qui si potrebbe arrivare a parlare di migliaia di cremazioni all'anno e quindi le emissioni cominciano a essere di una certa consistenza anche perché lo stesso progettista elenca una serie dettagliatissima di sostanze inquinanti che vengono emesse dalla cremazione dei corpi umani e alcune di queste sostanze vengono abbattute con un prodotto industriale allora dico io, se questa polverina magica, scusate questo termine un po' scherzoso che è immessa nei fumi della combustione produce questo abbattimento io a Valle pretenderei tutta una serie di strumenti di registrazione che documentano l'effettivo abbattimento di questi polveri fondamentalmente per noi che abitiamo all'intorno in qualunque caso questo forno crematorio ci dà fastidio grazie a tutti grazie a tutti